Musica Dunque, appuntamento settimanale con la salute e ringrazio il dottor Salvatore Cusenza per la preziosa disponibilità che ci dedica il martedì. Dottore, oggi parliamo di colon irritabile. Sì, è una patologia che colpisce il nostro colon, soprattutto una patologia che deriva emotiva, quindi stati d'ansia, stress, nervosismo, vanno tutto a riflettersi sul nostro colon che è il secondo cervello. Quindi il nervo vago, il collega il cervello e l'intestino viene iper-eccitato e quindi poi abbiamo queste conseguenze che si manifestano in molti modi. Gonfiore, stitichezza, diarrea, alternanza delle due fasi, stanchezza. Anche mal di testa. Mal di testa, svogliatezza, ha tante manifestazioni. È una patologia emotiva dove addirittura nei casi gravi in cui si arriva ad avere 12-13 scarichi di diarrea al giorno, si usano anche gli ansiolitici per mettere un po' a riposo questo nervo varo, quindi abbassare lo stato d'ansia del paziente. E aggiungo una patologia, quello che vedo io nei miei studi, una patologia molto diffusa tra le donne. Come facciamo a prevenire questo tipo di disturbi? Beh, in realtà prevenire non si può, perché non si può dire ad una persona stai tranquillo. Sarebbe troppo semplicistico dire Antonio stai tranquillo, come si fa? Non lo so. Sicuramente ci sono degli approcci alimentari che possono spegnere questa, diciamo, pseudopatologia, quindi eliminare dall'alimentazione i FODMAP, che sta, ecco, è un acronimo di fermentable, oli di saccardi, morsaccardi ed in polioli. Quindi sono degli zuccheri contenuti in alcuni tipi di frutta, verdure, frutta, verdura, il lattosio, eliminandoli si riduce la fermentazione e questo problema a livello intestinale. Oltre poi aggiungere enzimi, fermenti lattici particolari e in alcuni casi va anche in SIBO, diventa una SIBO, quindi una sovraccrescita batterica dell'intestino. Quindi bisogna poi distinguere le due cose. Mi dai l'occasione per chiederti quale dovrebbe essere il nostro rapporto quotidiano con gli zuccheri, che sono di natura, sia naturale, come dicevi tu, nella frutta, nelle paste, eccetera, ma anche appunto quegli zuccheri che vengono prodotti per i vari dolciumi, snack. Un esempio, i polioli, che vengono usati ultimamente tanto per dolcificare o vengono aggiunti, esempio, a dei biscotti senza zuccheri aggiunti, vengono aggiunti polioli. Per chi soffre di colon irritabile è un problema grosso, perché in quell'acronimo che avevo detto prima, FODMAP, una di queste lettere rappresenta i polioli. Poli, polioli. Fa parte della famiglia degli zuccheri, dei carboidrati, ad alta fermentazione. Si osserva in questi pazienti anche un altro fenomeno. Molte volte, siccome si parla di intestino gocciolante, dove le giunzioni al intestino si slargano, molte volte batteri virus oltrepassano questa barriera e vanno a colonizzare zone dove non dovrebbe esserci, quindi aumentano le cistiti e le candidosi. E in quel caso bisogna agire anche abbassando il carico di carboidrati per affamare questi tipi di microrganismi. Quindi è una patologia, non patologia, molto diffusa che crea tanti disturbi. Spesso la donna viene in studio e mi dice che la mattina la pancia sgonfia e la sera non riesca a vestirmi. C'è questa iperfermentazione a livello intestino e quindi bisogna agire con dei protocolli alimentari adatti. Quindi zuccheri e carboidrati con grande moderazione sempre. Sì, eliminando queste famiglie qui, quindi sì ridurli, ma eliminando questi FODMAP. Esempio, dove li troviamo? Broccoli, broccoletti, cavlofiore, aglio, cipolla, carciofi, funghi, la teina del tè, la caffeina è un problema, il cioccolato è un problema, il lattosio è un problema, il glutine in alcuni casi può essere un problema. E della frutta, quella a basso carico di FODMAP, sono arance, mandarini, ananas, melone, quello con la buccia gialla, e frutti rossi, quindi fragole, lamponi, ribes, mori, non le ciliegie. Quindi una cerchia ristretta di frutta, che è a basso carico di FODMAP. Sugli agrumi quindi andiamo a colpo sicuro? Sì, se il paziente però non ha reflusso, perché generalmente poi in chi soffre di colon irritato ha anche un po' di reflusso. Quindi in quel caso bisogna anche togliere gli agrumi, una prima fase. Sì, mi dai dottore l'occasione per ripetere quello che diciamo sempre, che ovviamente ogni persona ha delle esigenze specifiche, delle caratteristiche specifiche, quindi quello che diciamo non vale per tutti indistintamente. Certo, quello che può andar bene per Antonio Augello non può andar bene per Salvatore Cusenza, perché poi sì, è vero che entrambi possiamo avere un colon, una colite, un colon irritabile, però poi se io ho un'allergia al nickel e tu hai anche un reflusso, dobbiamo agire sì con un'alimentazione simile, ma con due sfaccettature diverse. Per me eliminando anche il nickel, per te eliminando anche ciò che nel reflusso dà fastidio. Quindi la struttura è simile, ma poi andiamo a diversificare le cose. Quindi, come dicevi, ad ogni persona il vestito su misura. Perfetto. E noi ricordiamo che, come state leggendo in sovrimpressione, quanti di voi pensano di avere delle necessità specifiche, possono scrivere una mail al dottor Salvatore Cusenza, la mail è dr.cusenzasalvatore.gmail.com Il dottore vi risponderà, risponderà alle vostre curiosità, alle vostre richieste. Hai controllato la mail, dottore? Sì, ci sono state due richieste su patologie autoimmune, persone, una signora di Torino, provincia di Torino, una della zona di Milano. Vedi, vedi. Che avevano patologie autoimmune, quindi siete molto seguiti anche al nord. Assolutamente sì. Padre Pio TV è seguita dal nord, dal sud, di isole e comprese. Noi vi ringraziamo per l'attenzione che prestate a tutte le nostre rubriche. A questa ci teniamo in modo particolare, perché, come dice lo stesso titolo, la salute viene anche mangiando. Certo. La prima forma di prevenzione è il cibo. Cibo è un po' di sport. Tutto il resto diventa cura. Viene di conseguenza. La prevenzione si fa quando siamo sani e non quando siamo malati. Quando siamo malati non è più una prevenzione, ma è una cura. Siamo malati. Grazie, dottore. A proposito di buone abitudini, quindi l'appuntamento è a martedì prossimo, stessa rete, stessa ora. Nel frattempo, come detto, quanti di voi possono avere un interesse, una curiosità o delle domande, possono scrivere a dottor Salvatore Cusenza attraverso la mail che state leggendo in sovrimpressione. Bene, dottore, grazie come sempre per la tua preziosa disponibilità. Grazie a te e ci vediamo a martedì prossimo. A martedì prossimo. A martedì prossimo.